Infastidito dal comportamento del sindaco Alessandro Ghinelli, così in aula il deputato di Coraggio Italia Stefano Mugnai durante l'udienza per il processo Coingas. All'epoca dei fatti Mugnai era coordinatore regionale di Forza Italia ed è stato chiamato a deporre dal procuratore Roberto Rossi, assente l'altro parlamentare Maurizio Dettore per motivi di salute. L'incontro con il primo cittadino era in merito alla vicenda della nomina di Luca Amendola alla presidenza di Multiservizi, la partecipata del comune di Arezzo che si occupa dei servizi cimiteriali. All'attenzione della pubblica accusa la presunta promessa di Amendola al consigliere comunale Roberto Bardelli di un aiuto rispetto alla sua difficile condizione economica se il consigliere avesse indicato al sindaco il suo nome per la guida appunto di una partecipata, patto che dopo la nomina sarebbe stato disatteso. E' a questo punto che sarebbero stati tirati in ballo i due onorevoli a cui il sindaco si sarebbe rivolto per chiedere di tutelare il consigliere che era stato il più votato della lista. Ghinelli ha detto in aula Mugnai mi disse che Roberto Bardelli aveva un ruolo importante e in consiglio comunale andava tutelato, poi mi spiegò che aveva problemi economici. Io gli feci presente che non era possibile per il partito aiutarlo, io stesso per la campagna elettorale per la presidenza della regione pochi mesi prima non ricevetti nulla da Forza Italia. Sul Luca Amendola Mugnai afferma mi citò quel nome, io risposi che Bardelli e Amendola erano amici di vecchia data e che quest'ultimo, se avesse voluto, sarebbe stato libero di aiutarlo in quella veste. A quel punto chiamai Amendola, gli dissi di questo incontro e lo trovai scocciato. Poi chiamai Maurizio Dettore, era ancora più scocciato, la sua irritazione era dovuta al fatto che quella vicenda non aveva nulla a che fare con la politica. Proprio ai fini della ricostruzione dei fatti manca appunto la deposizione del parlamentare Maurizio Dettore, teste al quale, a quanto pare, il procuratore non ha intenzione di rinunciare.